Benvenuti amici di MobileOS.it, siamo qui con il Nexus 6, siamo in Ultra HD, siamo in 4K infatti a registrare questo video. Vediamo quindi un po' come si comporta il telefono abbiamo già visto il Full HD però vediamo pure il 4K, mi sembra buono lo zoom torniamo indietro, zoom rapido, preciso, quindi tutto ok e vediamo un po' anche i cambiamenti di luce dall'alto verso il basso, mi sembra tutto bene proviamo magari anche a chiudere su qualcosa di più ravvicinato, visto che non è che mi abbia convinto troppo la messa a fuoco per ora di questo Nexus 6, vediamo come se la cava direi molto meglio, molto meglio in 4K rispetto al Full HD però ecco ora ogni tanto vedete non sono proprio messe benissimo le foglie, avrei preferito una migliore messa a fuoco che inoltre non posso nemmeno